buongiorno buon pomeriggio buon mattino buona notte buonasera riprendiamo un po quello che è il classico saluto che ho sempre fatto nel 2020 ce lo portiamo almeno in questa parte iniziale del 2021 guerra assoluta è così che voglio intitolare il video di oggi perché credo che sia venuto il momento di entrare veramente in guerra con questo sistema certo una guerra pacifica una guerra ideologica una guerra non violenta ma occorre davvero fare una guerra astuta occorre davvero colpire questo nemico anti umanistico questo demone chiamato capitalismo imperante chiamato finanza chiamato censura chiamato centro di controllo assoluto chiamato omologatore dell'umanità credo che occorra colpirlo disorientandolo con mezzi di cui questo stesso sistema non è più capace di usare magari tornando anche ai vecchi mezzi ai vecchi sistemi credo che occorra mandare in tilt questo sistema mandarlo in cortocircuito mandarlo al collasso proprio perché disorientandolo e non avendo più il consenso popolare vada a distruggersi come un uomo con i piedi d'argilla cosa che questo sistema è e si regge in piedi per la nostra assofazione per il nostro rimbambimento per il nostro imbesuimento alla mediaticità a ciò che ci dicono nel mainstream ci facciamo iniettare vaccini di cui non ne conosciamo nemmeno gli effetti a lungo termine di cui non sappiamo nulla perché tutto è stato segretato abbiamo un papa privo di spirito e politicamente schierato cosa che dovremmo vergognarci anche di avere ma di tutto questo ormai non ci facciamo più nemmeno caso e andiamo dritti per la nostra paura per la nostra incertezza per il nostro non sapere per il nostro esserci mentalmente anestetizzati al pensiero unico dominante globalista ecco che allora occorre entrare in guerra con le persone che si sono risvegliate che sono quelle che fanno più paura al sistema perché chi si è risvegliato è sveglio per sempre non è più non sarà più dormente non sarà più manipolabile e allora occorre veramente entrare in guerra non con i social che poi arriveranno a bannarci arriveranno a chiuderci a censurarci ma con le nostre forze riunendoci creando una serie di disobbedienza civile pacifica riempire le piazze ormai non basta più perché poi se tu organizzi una manifestazione ti fanno infiltrare quattro stolti che delegittimano la tua manifestazione la politica non c'è certo d'aiuto perché anche l'opposizione è fatta ormai da poltronari che si scannano per accappararsi le briciole di un eventuale recovery fund che poi ridurrà ulteriormente la popolazione in debito ma tanto i debiti non li pagano certo loro con la loro pensione a vita l'opposizione poteva fare molto una stessa opposizione che viene a raccontarcela ormai che è giusto stare in questa europa quindi è passata da anti europeista europeista significa che un'opposizione fallita in partenza perché innanzitutto è andata in contraddizione con i propri elettori secondariamente sta rinnegando le proprie radici le proprie basi i propri principi umanitari o umanistici se preferite per la quale era stata eletta e quindi occorre davvero comprendere come questa sia una grossa presa in giro nei nostri confronti di come la nostra salute venga usata a nessuno a nessuno di loro signori sta a cuore la nostra salute basta andare a leggere cosa stanno scrivendo dal 2012 finora i signori melinda e bill gates andate a recuperare i documenti della loro fondazione poi ne parliamo basta cercarli un po in rete si recuperano tranquillamente allora occorre creare un movimento di resistenza un movimento che confluisca in movimenti sempre più grandi potete scrivere a evolutore gmail.com ci si può incontrare per un movimento che non solo confluisca in movimenti maggiori già esistenti per poter dare loro forza ma un movimento promotore di nuove idee come la pubblicità gratuita per le piccole e medie imprese che hanno bisogno come l'invito ad andare a comprare invece che in e-commerce magari nel negozio più vicino anche se costa di più magari dover fare anche dei sacrifici rinunciare a qualcosa di futile per andare a comprare qualcosa di utile non all'e-commerce ma al negozio magari che sta morendo andare a volantinare cosa che forse si è perso d'abitudine ma a mio avviso potrebbe avere la propria efficacia andare a infilare nella cassetta delle post delle persone documentazioni scientifiche informative che portino voci di informazione contrarie a quelle del mainstream ormai omologate al potere informazioni che magari la gente non sa non ne viene a conoscenza e una volta avvenuta conoscenza riapre gli occhi riapre la coscienza informazioni anche spirituali confronto spirituale sempre volantinato sempre fatto per venire in qualche modo la gente ma non attraverso i social non attraverso i social di modo che la cosa diventi incontrollabile di modo che la cosa sfugga di mano a loro signori il classico passa parola ci volete mettere il cotone in bocca per non farci parlare e mi dispiace questo non è possibile perché noi reagiamo ecco che sfuggendo a loro non usando più i loro mezzi ma venendo meno ai loro mezzi li gettiamo nel terrore nella confusione ma non dobbiamo contrastarli e combattere con le loro armi loro sono più forti di noi loro ci possono schiacciare in qualsiasi momento hanno in mano tutto e noi abbiamo in mano il niente ma proprio grazie al non avere in mano questo niente ci possiamo ingegnare possiamo renderci artefici di una nuova guerra che loro nemmeno si possono sognare e li possiamo distruggerli possiamo annientare ma non con il loro stesso modo assolutamente con un modo totalmente nuovo rivoluzionario usando magari anche vecchie maniere vecchie formule che loro hanno dimenticato perché loro sono convinti che con la digitalizzazione sono diventati sono diventati i padroni del mondo a tal punto di pretendere di modificare geneticamente la specie umana e di poter seppellire per sempre l'ideale e di poterci integrare tutti in un pensiero unico dominante e globalizzato e questo non è possibile il fallimento di questa Europa ce lo sta dimostrando questa Europa che si chiama Germania faccio quello che voglio ma non è così quindi dobbiamo informare la gente a porta a porta in passaparola con degli scritti documentati e non farlocchi ovviamente con delle voci vere con un richiamo all'umanità alla spiritualità ma una spiritualità vera non dogmatica e di facciata e tutto questo è un grande lavoro che bisogna iniziare a fare in questo 2021 se vogliamo iniziare una riconquista del nostro essere umani e non del nostro divenire robotizzati macchine da consumo carne da macello merce da scaffale perché tutto questo che diventeremo se non ci diamo da fare sui vaccini nulla si sa voi iniettatevi poi ci penseremo tanto sperimentiamo su di voi siete le nostre cavie è questo che ci sta dicendo il sistema è questo che noi stiamo mandando giù non con consapevolezza ma con assuefazione perché qualsiasi genere umano che si rende consapevole di questa situazione la rigetta ma tutti piegati ricattati consapevoli di esserlo forse in qualche modo ma dormienti quindi la consapevolezza è una consapevolezza che non è tale permettetemi questo giro di parole ma è frutto di un assopimento di una stanchezza di un piegarsi al volere di un rinnegare la libertà ciò per cui i nostri nonni hanno anche perso la vita e hanno perso tutto per poterci regalare un'umanità dignitosa ebbene noi non stiamo rispettando il loro ideale ci stiamo piegando a questo sistema noi non stiamo rispettando la libertà per la quale loro hanno combattuto o perlomeno gli hanno fatto credere di combattere loro hanno dato la vita per la nostra umanità per la nostra libertà consapevolmente o inconsapevolmente l'hanno spesa la loro vita per noi e noi cosa gli stiamo regalando? il nostro piegarci la nostra assuefazione la nostra incapacità di credere in noi stessi il tradimento al loro ideale ecco cosa gli stiamo regalando gli stiamo offerendo noi stiamo cadendo nelle mani di questi sciocchi oligarchi di questi politicanti senza umanità di questi speculatori finanziari a cui interessa solo che la ricchezza rimanga nelle loro mani e che la popolazione si impoverisca sempre di più per poterla controllare per poterla geneticamente modificare per poter creare un pianeta a loro uso e consumo a loro piacimenti per poter creare un nuovo mondo di schiavi schiavi digitali schiavi senza umanità schiavi che non avranno più nemmeno la capacità e la possibilità di ribellarsi perché saranno geneticamente modificati e piegati al loro potere stanno trasformando l'umanità in tutto questo stanno trasformando i nostri figli e i figli dei nostri figli in tutto questo ciò vi fa piacere? è così che volete? beh se è così che volete continuate pure i vostri sonni tranquilli continuate pure a sentirvi al sicuro nella vostra casa con il vostro lavoro non lo sarete ancora per molto vi stanno regalando l'illusione che è così ma non sarà così ancora per molto volenti o nolenti ne uscirete da questa situazione verrete risvegliati brutalmente e bruscamente da questo sonno in cui vi hanno cacciati ma se vi risveglierete quando lo diranno loro sarà troppo tardi è tempo e ora di risvegliarsi e di darci da fare di combattere una guerra senza precedenti di combattere la censura di combattere questa politica obsoleta nulla facente e piegata all'oligarchia di risvegliare i nostri ideali la nostra spiritualità di sentirci esseri umani capaci di volontà e capaci di ottenere ciò che vogliono di comprendere di comprendere che i loro signori sono a nostro servizio e non noi al loro servizio di comprendere che possiamo farcela a riconquistare la dignità di essere umani dignità che stiamo perdendo giorno per giorno dignità che viene completamente calpestata e annullata in nome di una pandemia da loro signori strumentalizzata e usata per ottenere ciò che vogliono la nostra salute e non lo dico solo io lo dicono tanti anche il professor Meluzzi l'ha ribadito ieri in un post che ho condiviso anche su Facebook che potete trovare su YouTube cercando anche tra i video di Radio Radio oppure del professor Meluzzi stesso sono tante le fonti ormai dove è possibile reperire del materiale informativo per il momento sono ancora tante anche se stanno cercando di boicottarle tutte e chissà mai boicotteranno anche il mio piccolo canale un giorno o l'altro ma non importa io sono già proiettato a lavorare esternamente quindi non è nessun problema se anche mi bannano dobbiamo veramente darci da fare dobbiamo risvegliare la nostra umanità non potete credere anche voi che avete un lavoro sicuro che andrà avanti sempre così anche voi prima o poi ne sarete vittime di questo sistema di questo sistema oligarchico perché vuole farvi diventare padroni del nulla non avrai più niente ma sarai contento sarai nulla tenente ma sarai contento perché sarai il mio schiavo e io saprò contentare qualsiasi tuo desiderio che voglio io ma ti dirò di più non sarai più felice per i tuoi desideri ma saprò renderti felice per ciò che voglio io per il modo in cui io voglio che tu sia felice questo è quello che stanno cercando di ottenere e ci stanno riuscendo perché ormai hanno assopito la tua coscienza hanno anestetizzato la tua personalità ti hanno ridotto ad essere oggetto non più essere pensante ma essere esecutore di ciò che loro ti dicono di fare bisogna uscire da questa fase bisogna cercare di risvegliare il dormiente forse non ci riusciremo ma almeno potremmo dire che ci abbiamo provato risvegliare le persone spiritualmente con materiale informativo documentato facendo giungere questo materiale alle persone in maniera diversa finché si può anche tramite i social ma si arriverà a un punto dove i social non ce lo permetteranno più dove queste piattaforme non ce le permetteranno più si arriverà a questo punto ce la stanno già mettendo tutta e allora bisognerà trovare formule alternative formule a cui dobbiamo essere pronti formule che destabilizzino e mandino in frantumi questo sistema fatto dai demoni dagli oligarchi da coloro che nel loro cuore non hanno nulla di umano ma sono solo assetati di potere trasmettitore di menzogna di un'ologarchia e un'omologazione disumanizzante e nociva per l'essere umano riflettiamo meditiamo ma questa volta forse non basta forse occorre davvero mettersi in campo e combattere combattere una battaglia dura senza precedenti ma a mio avviso vincente se cominciamo davvero a muoverci e a darci da fare gli sciocchi e gli stolti che rimarranno con le mani in mano e che aderiranno a questo sistema saranno vittime di se stessi rimpiangeranno il loro non essersi dati da fare rimpiangeranno il vedere i propri figli schiacciati da questa da questa oligarchia disumanizzante e potranno solo dire mia colpa mia colpa per essere stato dormiente e per non aver fatto niente per mio figlio e per la sua generazione e per le generazioni future ora non se ne rendono conto ma presto questo pesante macigno cadrà sulle loro teste e dilagnerà le loro anime certo sarà la loro lezione per una vita futura ci mancherebbe altro e se così dovrà essere così sia ma noi noi guerrieri noi combattenti potremmo trionfare e non dilaniarci per dire nel nostro piccolo ci abbiamo provato ci siamo dati da fare e abbiamo intrapreso il cammino verso la consapevolezza verso il risveglio verso la nostra dignità umana e spirituale che ci contraddistingue come esseri umani provarci è doveroso dormire è una scelta che ricadrà sulle vostre teste e sulle teste dei vostri figli che non so alla fine quanto vi possono benedire per ciò che li avrete lasciato è tutto per oggi vi invito ancora una volta se volete scrivere a evolutore chiocciola gmail punto com se volete potete richiedermi anche tramite mail la partecipazione al mio gruppo su whatsapp libera informazione finché durerà perché ho in atto altri progetti specie con la nuova normativa che da febbraio entrerà in vigore su whatsapp altra grande fregatura sulla nostra privacy e sul nostro controllo ma non è il caso di parlarne in questo video quindi chi vuole camminare con me nel risveglio ha la possibilità di farlo scrivendomi condividendo questo video entrando a far parte del mio gruppo siamo rimasti in 30 ma siamo 30 eroi 30 valorosi se anche ne dovesse rimanere uno solo saremmo due eroi e due valorosi io non ho intenzione di fermarmi ho intenzione di lavorare in questo senso di trovare dei sostenitori di creare un gruppo che sia degno di chiamarsi gruppo umano atto alla riconquista della dignità umana un gruppo che sicuramente andrà a confluire o a sfociare in altri gruppi più grandi ma un gruppo che porta idee e rinnovamento e un gruppo che porti avanti sicuramente un nuovo tipo di cammino e riesca a smantellare questa politica oligarchica despiritualizzante e non degna di appartenere al genere umano maggioranza e opposizione sono nel modo più assoluto da neutralizzare neutralizzare totalmente affinché prenda spazio non più un essere di destra o un essere di sinistra ma un ideale di essere esseri umani pronti a lavorare per il totale benessere non per la globalizzazione ma per una nuova forma di dignità umana per una sovranità che dia autenticità a ogni popolo a ogni angolo della terra a ogni situazione umana è un sogno? beh può darsi ma io voglio perseguirlo perché se è vero che i sogni possono diventare realtà è vero che vale la pena di sognare e combattere per i sogni e chi non crede in tutto questo è uno sciocco uno stolto che non otterrà mai nulla di soddisfacente nella propria vita buona vita a tutti evolutore chiocciolagmail.com se volete scrivere e dare una mano a questo mio piccolo gruppo che sta nascendo ma sono sicuro fossimo anche in due faremo tanta strada forse non avremo successo ma interiormente non saremo frustrati avviliti esauriti scontenti come voi che vi adattate a questo sistema buona vita a tutti ancora una volta che la positività sia con tutti noi e grazie a tutti